Invocano l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e sindaci di Serre, Altavilla, Silentina, Eboli e Battipaglia che hanno annunciato di scrivere una lettera al Capo dello Stato per chiedere di rispettare i patti sanciti in un protocollo d'intesa che negli anni passati con la Regione Campania aveva scritto la parola fine all'arrivo dei rifiuti in una porzione della provincia di Salerno che su questo fronte ha pagato con la presenza di grosse discariche, un prezzo già molto alto. La notizia è stata diffusa dai sindaci al termine della riunione che si è svolta stamani in Procura Potenza con il Capo Francesco Curcio e il PM Vincenzo Montemurro, titolare dell'inchiesta che dovrà fare luce sul traffico internazionale di rifiuti che, partito dalla SRA di Polla, ha fatto ritorno al porto di Salerno all'interno di 213 container dopo un'inchiesta che in Tunisia ha portato le autorità giudiziarie all'arresto del Ministro dell'Ambiente. Dalla Procura di Potenza al momento invece c'è un no comment alla richiesta di sapere quale sia stato l'argomento di confronto con i primi cittadini che hanno annunciato nelle prossime ore un comunicato stampa per diffondere una posizione univoca rispetto all'argomento circondato nelle settimane da una serie di indiscrezioni e notizie fuorvianti che non hanno fatto altro che accrescere la preoccupazione dei cittadini che dovranno accogliere le 6.390 tonnellate in un'area già individuata dalla Regione Campania in località Persano. Proprio per questo, nei giorni scorsi, grazie all'intermediazione del prefetto di Salerno Francesco Russo e con l'assenza della Procura di Potenza, si sta procedendo alla richiesta di anticipare la caratterizzazione dei rifiuti direttamente nel porto di Salerno alla presenza dei consulenti della Procura di Potenza. Si spera così di tranquillizzare poi i cittadini sull'arrivo e il trasferimento dei rifiuti.